Ciao a tutti, grazie per essere qui a Daniele Benedetto e Elisa. Noi abbiamo questa conversazione perché abbiamo iniziato a discutere di comunicazione sinistra e politica da qualche tempo, con anche questi video li avete visti, chi partecipa a questa conversazione gli è stato chiesto di vederseli e di dire che cosa ne pensava. Tutte e tre le persone che adesso intervengono hanno avuto esperienza diretta con la sinistra e la comunicazione, hanno assolutamente carta bianca sul raccontare anche aneddoti o contestare alcune cattive abitudini che le organizzazioni hanno, e ci siamo presi l'incarico come federazione di Firenze di assumerci ogni responsabilità se qualcuno si ritenesse offeso. Quindi con molta curiosità direi che possiamo iniziare questo giro, io darei la parola a Daniele e non starei ad entrare tanto nello specifico delle esperienze che avete avuto. Avete conoscenza diretta della comunicazione e della sinistra di alternativa radicale, comunista, come la vogliamo chiamare, in Italia del recente passato e del presente. Quindi grazie e iniziamo il giro. Ok, grazie a te, grazie a voi. Ciao a tutti e a tutti. Io partirei da un malinteso, secondo cui l'inefficacia politica della sinistra radicale negli ultimi anni, negli ultimi 10, 12 anni, 15 anni, dipende dalla sua incapacità a usare la comunicazione. In altre parole, secondo questo assunto, il nostro messaggio non sfonderebbe perché non siamo abbastanza bravi a manipolare la comunicazione, a usare le tecnologie, le piattaforme, i media, eccetera. Premessa, tutte queste cose sono in gran parte vere. Nel corso degli anni, per vari motivi che evito di affrontare, abbiamo disimparato a stare nel campo della comunicazione politica. a tutti i livelli, cominciare dalla regione toscana. Ma, diciamo, ridurre a questo il motivo della nostra, diciamo, inefficacia sul piano sociale, rischia di diventare un alibi per tutti quelli che, facendo politica, non si occupano di comunicazione. Provo un po' a spiegarmi, anche prendendo le cose che diceva Benedetto prima quando non stavamo registrando. Un'organizzazione politica non è un'agenzia di comunicazione. I pubblicitari si occupano e lavorano sul come, qualunque sia l'oggetto della comunicazione, no? Servizio bancario, un paio di scarto, un cellulare. Un'organizzazione politica, prima di occuparsi del come veicolare, deve occuparsi molto attentamente del cosa, di cos'è l'oggetto che si vuole comunicare. E questo, per raggiungere una complicazione ulteriore, non significa operare una separazione netta fra il cosa comunichiamo e il come. Poi vediamo perché, se mi ricordo. Io provo a dire da qualche tempo, senza essere troppo convincente, che la tecnica della comunicazione è un elemento fondamentale, ma è decisamente meno importante di altri. Ok? Io sono per il primato del cosa, non del come. Provo a dire il primo, poi se magari seguite questo ragionamento continuiamo, se no no. Il primo elemento, credo, senza il quale, a mio parere, non esiste tecnica della comunicazione che possa supplire, è la connessione fra la nostra proposta politica e i bisogni reali della società. O meglio, fra la nostra proposta politica e i bisogni reali della società che vogliamo rappresentare. La nostra target audience, per usare un linguaggio preso dal marketing, o per stare, diciamo, ai giorni, ai nostri, al nostro campo, la parte società attraversata dai conflitti e dagli interessi che vogliamo rappresentare. Sembra una cosa molto facile, detta così, no? Stabilire una connessione fra la nostra proposta politica e i bisogni reali della società che vogliamo rappresentare. Sembra facile, pensiamo di farlo, di farlo continuamente, ma io credo che non sia così. Cioè, penso che non lo facciamo, non lo facciamo bene. Per almeno tre motivi. Il primo motivo, credo che sia, che la proposta politica non può più avere dall'alto attraverso un'idea, diciamo, di avanguardia, secondo cui il partito sa quali sono i bisogni delle masse e quindi li ricala. Il rapporto, la relazione fra la proposta politica e i bisogni della società è sempre un rapporto dialettico, non frontale, sempre di scambio, di ascolto. Faccio due esempi buoni di ascolto dall'altra parte. Quando Berlusconi, vent'anni fa, diceva che non pagare le tasse era una cosa tutto sommato giusta, non ha tirato fuori dal cappello un'idea rivoluzionaria. Quell'idea lì faceva già parte, da molto tempo, di un senso comune di un pezzo di società che Berlusconi voleva rappresentare, il pezzo di società che dice che lo Stato deve stare nel suo, il primato del privato, eccetera, eccetera. Berlusconi lì cosa ha fatto? Ha operato una forma molto intelligente di ascolto di un bisogno, di un pezzo di società che voleva rappresentare e poi, diciamo, l'ha istituzionalizzata. La stessa cosa succede con Salvini, lì, l'ha detto molto bene Paolo Ferrero nell'intervista, nello scambio che avete avuto, non è che Salvini ci ha insegnato ad avere paura degli immigrati, a disprezzare i Rom, ad avere la paranoia continua verso il diverso. Salvini si è messo in connessione con un senso comune che esiste anche in modo abbastanza trasversale nella società e anche lì ha operato una forma di ascolto, non ha tirato fuori niente di rivoluzionario e di nuovo e lo ha istituzionalizzato. Poi Salvini ha fatto un'operazione diversa, cioè, se vi ricordate, in un certo periodo lui ha occupato, diciamo, mano militare tutti i canali tradizionali e non della comunicazione e ha sparato questo messaggio dovunque, quindi ha fatto un passaggio in più. Da noi, invece, molto spesso capita che nel nostro campo, diciamo, della sinistra radicale, noi facciamo delle proposte che risultano essere pionieristiche, nel senso che dopo 50 anni ci dicono, eh cavolo, aveva ragione rifondazione a dire che la banca centrale o a fare un discorso, no, sul debito pubblico, eccetera, eccetera. Però queste proposte, proprio perché pionieristiche, rischiano di non avere nessun legame immediato con i bisogni della società che noi vogliamo rappresentare. Quindi questo, primo punto, è il tipo, la proposta politica deve avere una connessione, una relazione con i bisogni reali della società. La seconda cosa è che la proposta politica non deve avere esclusivamente una caratterizzazione generale ed astratta, quindi deve legarsi immediatamente su un piano materiale ed emozionale ai bisogni delle persone. Anche qui faccio due esempi velocissimi. Se noi diciamo, la rifondazione comunista nella pandemia propone più giustizia sociale, verremo ignorati, diciamo, dalla gran parte delle persone. Perché la giustizia sociale è un concetto completamente astratto, un significante vuoto, iper abusato e quindi, diciamo, la proposta politica astratta è sempre molto difficile da comunicare. Se noi diciamo, dentro la pandemia, la rifondazione comunista propone il blocco immediato degli affitti, il blocco del pagamento delle bollette a tutti quelli che hanno visto ridursi il reddito, immediatamente noi entriamo in contatto potenziale con centinaia di migliaia, forse milioni, di persone che stanno vivendo oggi, in questo momento, questa situazione di bisogno. Quindi noi stabiliamo immediatamente un contatto e la forza di una proposta del genere è che è già di per sé comunicativa. Prima ancora di essere manipolate con le tecniche della comunicazione, questa proposta potenzialmente è già dirompente sul piano comunicativo perché si lega immediatamente, prima ancora di trasformarla in video, in volantini, in storie di Instagram, in campagne, in tutto quello che volete, già di per sé una proposta del genere è comunicativa. Scusate. E questo è quello che provo a dire prima sulla non separazione fra il cosa e il come della proposta politica e della comunicazione. Ultima cosa, regola intramontabile per chi si occupa di comunicazione, ma penso abbastanza conferenzibile a tutti, è da chi viene la proposta? L'autorevolezza e la credibilità del soggetto che propone non è affatto irrilevante. Come dice il grande sociologo francese Fabri Fibra, il peso delle parole dipende da chi lo dice. Repubblica, quando deve mandare un editoriale su una questione spinosa, ad esempio nella fase dei barconi, eccetera, eccetera, a chi affidava l'editoriale di punta? Non al, appunto, sociologo politico più bravo, eccetera. L'affidava a Saviano, perché Saviano è nella base, diciamo, elettorale, nei lettori di Repubblica e in quell'elettorato lì è un influencer, cioè quello che dice lui ha una grande influenza su quel pezzo di società. Ecco, quindi è assolutamente necessario per noi lavorare a questo, a rafforzare la nostra credibilità e la nostra autorevolezza nel pezzo di società che vogliamo rappresentare. Dobbiamo diventare molto più influenti, quindi con un grandissimo grado di approssimazione, secondo me questa è la base sulla quale costruire tutti gli altri punti. Poi davvero possiamo parlare di tutto quello che volete, dell'importanza delle tecniche della comunicazione, dell'importanza della leadership, della mitopoiesi, di tutto quello delle risorse economiche che ci vogliono nella comunicazione, nel saper usare i vari linguaggi dei social, tutto quello che volete. Però, secondo me, se non si parte da questo, dall'oggetto della comunicazione, io credo che non ti parta. Mi collego a quello che diceva Daniele, perché in realtà lui ha fatto un discorso verissimo e che è la base di tutto, ma che non è un discorso, passatemelo, meramente dalla parte organizzativa, meramente dalla parte, tra virgolette, partito, intesa come struttura dirigenziale, a tutti i livelli, fino ad arrivare alle assemblee degli iscritti e che vadano a costruire poi quella che è, diciamo, la linea politica. La metto un po' così, ma insomma, per capirci. Perché dico questo? Perché in realtà il pezzo del cosa che diceva Daniele, soprattutto nello sviluppo appunto della creazione della conseguenza pratica, del capire qual è l'umore delle persone che noi vorremmo rappresentare e quindi quali sono i desideri, le aspettative, i bisogni, come loro si vedono, come si sentono, come si rappresentano loro e come vorrebbero essere rappresentati, ma non in senso istituzionale. Cioè, come io mi racconto fuori, come mi vedo essere raccontato come il povero sfigato non è una buona idea, anche se magari io lo sono, ad esempio. E tutti questi pezzi in realtà sono un pezzo di lavoro di comunicazione, tra virgolette, di alto livello che viene fatto abitualmente quando si cerca di presentare un'idea, un prodotto, un servizio, una qualunque cosa ed è un pezzo di lavoro che nel marketing viene utilizzato. Io non sono per ovviamente trasferire il marketing alla comunicazione politica, perché sarebbe un errore chiaramente, soprattutto in una società come quella italiana, dove la comunicazione politica è da sempre ispirata a dei criteri diversi da quelli del marketing, anche dopo Berlusconi, anche dopo Salvini, per semplificare, per tagliarla un po' con l'accetta. Però ci sono delle tecniche, delle pratiche che sarebbe bene imparare ad utilizzare, cioè essere un po' meno autoreferenziali e un po' più guardare a quello che abbiamo intorno. Perché se il prodotto che noi abbiamo, fra virgolette, e non è un prodotto chiaramente, se le nostre idee, la nostra anche capacità attrattiva, che non deve tramutarsi per forza in voto, sarebbe già buono se si tramutasse in un consenso che possa portare a una militanza e poi sì si potrà tramutare anche in un voto. Però appunto tutto questo, a mio parere, si deve costruire appunto guardando più fuori che dentro. Allora, provo a buttarla un po' così. Va benissimo, no? Noi parliamo di giustizia sociale, come riprendendo l'esempio di Daniele. Ci siamo mai chiesti cosa intendono per giustizia sociale le persone che noi vogliamo rappresentare? Quanto è, ad esempio, parte l'aspetto del blocco degli affitti o magari dell'avere dei servizi aggiuntivi? Faccio esempi variegati. Ci siamo mai interrogati su chi noi rappresentiamo realmente? Siamo sicuri che noi rappresentiamo ancora nella pratica il lavoratore dipendente, classicamente dentro un'azienda, stabilmente inserito in questa azienda e dove al massimo appunto può rischiare il licenziamento e però avrebbe comunque magari diritto una serie di cose perché è la grande azienda a cui siamo rimasti nella nostro immaginario. O invece magari oggi il nuovo proletario è una figura molto diversa, che magari alcune tipologie di tutela non lo rappresentano ma perché non sono reali tutte le per lui. Questo è un esempio, quindi anche capire cosa desiderano le persone intorno a noi, cose si aspettano. E dall'altro lato usare questi strumenti. Ci sono strumenti che... lo strumento dell'inchiesta o dei sondaggi, insomma, a seconda del linguaggio che vogliamo utilizzare. Riusciamo ancora a praticarlo? Io ad esempio vedo che non lo si pratica più. Non lo si pratica a livello di partiti se non nei partiti che hanno magari delle capacità economiche tali da andare a studiare delle fasce di persone che si vogliono andare a rappresentare o anche no per capire qua su quali argomenti andare poi a puntare. Noi guardiamo molto al nostro ombelico in generale a sinistra e questo genera ovviamente un problema non da poco perché alla fine non rappresentiamo, rischiamo di non rappresentare nulla e anche la migliore campagna che si potrebbe mettere in piedi rischia di diventare un gingillo per pochi e magari una cosa che si dice ah sì carina però che non porta risultati. La difficoltà a mio parere è data dal fatto che, e vado verso insomma un po' a concludere, è data dal fatto che non andiamo a vedere realmente quel discorso ad esempio di chi far parlare su un argomento, come farlo parlare e con quali esempi, ma si tende a lasciare con tutto il, come dire, il contenuto di quella che è la comunicazione politica meramente a un processo decisionale dirigenziale per così dire. Non c'è un confronto con quello che è l'esterno e non c'è un'analisi dell'autorevolezza dei dirigenti. Non ha senso, ad esempio, io lo dico molto chiaramente, in una società come quella attuale, secondo me facciamo spesso l'errore di non puntare su magari delle figure che potrebbero aiutare, ma non per un concetto lideristico, sia chiaro, non è il concetto lideristico, può essere anche una collettività, può essere un collettivo, però noi dobbiamo puntare su un qualcosa che possa identificare, anche rappresentare le nostre idee. Guardate, vi faccio, su questo la introduco un po', buttandola così, un esempio pratico. Quando noi andiamo, noi immaginiamo la nostra comunicazione, qual è la nostra comunicazione classica? Ah, è il volantino? Ah, è il pezzo sul sito? Ah sì, magari il post lunghissimo dove riproduciamo un comunicato stampa su Facebook. Faccio un esempio pratico, molto, molto, tre esempi pratici banali, ma che sono quelli che più spesso noi vediamo. Sono tre cose oggi che potrebbero essere assolutamente dirompenti a livello di strumento, ma che puntualmente ci si riversano contro. Ci si rivoltano contro perché cosa andiamo a fare? Volantini fiume dove in realtà abbiamo fatto delle analisi politiche perché abbiamo sbagliato il target. Noi a chi diamo il volantino? Lo diamo a chi deve andare a tenere un dibattito? O a una persona che sì, vuole capire, ma soprattutto vuole capire cosa diciamo proprio stringentemente, no? Uno, faccio un esempio. Il comunicato stampa va su Facebook? Boh! Cioè, i giornalisti lo vedono su Facebook? No, allora il comunicato stampa non va su Facebook. Su Facebook ci va una comunicazione più semplice, semplificata, immediata e che porti dei contatti, che vada a vedere chi è che ci legge su Facebook. Il giornalista non ci legge su Facebook, dovrebbe vederci sulle agenzie di stampa se siamo in grado di andarci. Sempre per fare un esempio pratico. Tutti questi aspetti ci raccontano che noi non ci interroghiamo mai su chi vogliamo rappresentare e a chi vogliamo parlare. E guardate, pensate al lavoro enorme che è stato fatto su Elish Line a livello europeo e oggettivamente non è che noi non avessimo il personale politico per fare altrettanto. E io la faccio un po' come sfida questa cosa. Il fatto di aver... hanno costruito un personaggio, al di là delle capacità della singola persona e della bravura e tutto quello che volete, è stato costruito un personaggio lavorando non solo sul cosa lei faceva, ma guardando due o tre argomenti che toccavano la pancia di un potenziale elettorato e quei due o tre elementi sono stati quello su cui questa persona ha vissuto nella campagna elettorale successiva delle regionali in Emilia Romagna. Nello specifico ce n'è uno in particolar modo, che l'ha fatta dare su tutti i social con mega visualizzazione e via dicendo ed è stato l'attacco frontale a Salvini sempre solo su un argomento vecchio, vecchio, passato, stravisto cioè non c'era nulla di particolarmente originale, ma sul fatto che Salvini non fosse mai presente nelle commissioni dove si discuteva di immigrazione. Quando si discuteva tu dove eri, ecco questa cosa qua banalmente ha parlato alla pancia dell'elettorato che si voleva andare a rappresentare, elettorato che sicuramente era anche stato un po' rinforzato passatemela dall'esperienza delle sardine, altra grande operazione di comunicazione su cui bisognerebbe farci una bella analisi, magari una bella chiacchierata magari anche fra un po' di tempo perché abbiamo bisogno anche di digerirle le notizie per poi riuscire ad analizzarle freddamente e quindi si andava, si è fatta una campagna e sicuramente una gran parte dei voti e dell'immaginario è stato costruito su un personaggio che alla fine ha attaccato Salvini frontalmente, ha dato, ha ovviamente rappresentato con il suo stesso corpo una serie di elementi che automaticamente davano autorevolezza quindi il fatto che fosse una donna, che fosse giovane, che appunto con questo viso pulito anche, no, si presentasse e questo ha aumentato l'autorevolezza questo per dire che la comunicazione in realtà talvolta forse bisognerebbe un po' appaltarla passatemelo, ma non perché non siamo per forza in grado noi ma perché certe volte magari chiedere uno sguardo esterno a qualcuno che questa cosa la fa di mestiere ti aiuta a intercettare le istanze di chi sta fuori e magari anche riuscire a capire meglio come il nostro contenuto può essere comprensibile Penso che mi infilerò, diciamo così, nel mezzo di queste due riflessioni partendo dalla mia esperienza, diciamo così, sul territorio ma tanto suona, sempre suona molto bene a sinistra perché ho notato soprattutto negli ultimi anni, diciamo di riflessione che non solo si tende anche nella comunicazione politica e di partito a riprendere i meccanismi e le tecniche del marketing o di altri tipi di comunicazione ma non ci si interroga abbastanza poi su chi materialmente questa comunicazione poi la deve portare avanti il che suona ancora più, diciamo così, strano, tra virgolette o diciamo meglio inefficace in epoca di viralità cioè una delle immagini più famose probabilmente nell'immaginario della sinistra o almeno della sinistra di Antat, diciamo così, di quelli più vecchi di noi sono i compagni semplici, neomosi, che porta a porta probabilmente la domenica andavano a vendere l'unità non sto parlando di lotta comunista, sto parlando dell'unità e sul discorso della vendita dell'unità e poi delle feste dell'unità e poi bla 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 è stata fatta a suo tempo un investimento e una narrazione incredibilmente basta ok? tant'è che ancora oggi se si cerca unità su Google Immagini praticamente la maggior parte, forse la maggior parte no ma insomma buona parte dei risultati sono proprio le immagini di persone che andavano a vendere l'unità lo stesso Guccini, se mi ricordo bene, nella sua canzone Eschimo riporta il ragazzo che andava in giro con le copie dell'unità in tasca ok? questo per dire che spesso ci si dimentica che rispetto a una comunicazione basata sulla vendita di prodotti che avviene attraverso store fisici online la comunicazione politica ha bisogno di tutto un personale tra virgolette, non istituzionalizzato cioè non pagato e non inserito a ruolino che però deve portare avanti questa comunicazione cioè banalmente se fai un volantino questo volantino deve essere trasmesso alle persone cioè ci servono compagni che prendono, partono e danno il volantino ora, secondo me negli ultimi anni la questione è stata affrontata in maniera molto marzista-leninista cioè il centro si tira fuori il giornalino o il giornale di rifondazione che non mi ricordo nemmeno come si chiama o anche, ora per aggiornarsi un pochino il post su Facebook e poi ci si aspetta che questi elementi questi strumenti di comunicazione vengano portati alle masse in maniera così cioè nel senso casuale mentre invece secondo me proprio osservando quelle manifestazioni di interesse come possono essere le sardine per il campo del cosiddetto centrosinistra o i salviniani vari diciamo così per quanto riguarda la destra sempre più si pone il problema di come galvanizzare nemmeno tanto il nostro target ma come galvanizzare quella che un tempo sarebbe stata la nostra militanza per spingerli a comunicare ora, proprio nell'epoca in cui nell'epoca appunto della viralità purtroppo nell'epoca della pandemia in questo momento storia ma comunque nell'epoca in cui spesso e volentieri si vince se il tuo contenuto viene ricondiviso n volte migliaia di volte milioni di volte eccetera eccetera non pensare a non pensare a impostare una comunicazione che piaccia anche a quelli che la devono portare avanti sul territorio ecco, secondo me questo danneggia parecchio cioè io mi ricordo ancora e insomma ce l'abbiamo sotto gli occhi sempre in qualunque sede di qualunque probabilmente di qualunque partito insomma a sinistra i pacchi di volantini non dati ok? sì, può essere anche un problema organizzativo va bene, nel senso mi sono arrivati i volantini mi sono dimenticato cosa fare bla 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 però secondo me spesso e volentieri è anche un problema del fatto che i nostri stessi le nostre stesse militanti e quella roba lì non la vogliono cioè non la vogliono portare non si vogliono mettere in gioco per usare un'espressione forse anche troppo berlusconiana ok? perché soprattutto per quanto riguarda la politica pensiamo anche a una discussione in famiglia te sei quello che dici come diceva Daniele se decidi che il punto politico è l'autoriduzione delle bollette o il non pagamento dell'affitto e questa è la tua comunicazione cioè signori da domani ci autoriduciamo le bollette dell'Enel del 50% devi essere anche convinto devi essere anche sicuro che i tuoi poi siano convinti di quello che dici ok? perché se devono andare a comunicare alla gente cioè se devono andare a parlare con fratelli mogli amici ragazzi noi da domani non paghiamo il 50% della bolletta dell'Enel perché la pandemia perché il reddito perché il lavoro non c'è perché bla 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 devi essere sicuro che loro siano sicuri perché sono loro poi che si trovano davanti le accuse diciamo così di essere dei ladri di essere degli scansapatiche di essere delle cose se una campagna comunicativa viene decisa e discusa e qui mi riallaccio all'Elisa se una campagna comunicativa viene decisa e discussa in un unico livello senza confronti senza discussioni poi piove dall'alto e noi non abbiamo soprattutto a sinistra e soprattutto nel nostro partito noi non abbiamo quegli strumenti che sono propri dell'azienda cioè la disciplina e l'autorità nonché il fatto che se vuoi arrivare alla fine del mese cioè se vuoi avere un reddito devi fare quello che ti dicono i capi ok spesso non ci rendiamo conto o non lo mettiamo in prima linea che tutto quello che ruota intorno alla politica è volontario ed è volontario anche nei termini del farselo proprio emotivamente non solo razionalmente ok cioè spesso e volentieri mi sono sentito in difficoltà ora per fare un per fare un una cosa un brevissimo elemento mi sono sentito in difficoltà a dover dare un volantino perché era brutto e perché non vuoi essere identificato con quello che è brutto e ora la sto volgarizzando ok non vuoi essere identificato col muro di testo perché poi giustamente quello che te lo prende in mano ti dice che palle ma siete sempre i soliti da 50 anni bla 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 ora lo puoi fare una volta lo puoi fare due volte però c'è un burnout anche nella militanza cioè la decima domenica di fila che sei andata al mercato alle classi popolari sei andata a portare il tuo volantino e dalle classi popolari ti sei sentito prendere con il culo a un certo punto dici vabbè ma forse stiamo facendo qualcosa la crisi della comunicazione a sinistra secondo me sinistra radicale ovviamente spesso e volentieri è una crisi di è una crisi di sistema cioè non solo quello che non sei del tutto d'accordo con quello che dici ma non sei nemmeno d'accordo con come lo dici cioè quante volte e qui me li faccio a dimitire quante volte c'è arrivato il giornalino di rifondazione di cui io continuo a non ricordarmi dire fare dire fare rifondazione dire fare rifondazione non me lo ricordo tra l'altro con un font torribile come nel nome della testata ma vabbè quante volte è arrivato questo disgraziatissimo giornalino che tra l'altro spiace perché poi ci sono sicuramente compagni che scrivono che fanno che impaginano che stanno soldi che vengono spesi per però rimane lì perché non non te la senti di dare dieci pagine di roba che non c'entra nulla con quello che la gente parla o se c'entra c'entra in una maniera veramente che devi proprio forzare lotta comunista per dire il giornale gli articoli sono anche interessanti però per riuscire a connettere gli articoli con quello che è la tua vita quotidiana per dire così devi fare un lavoro filologico che ovviamente nel senso al 90% delle persone non lo fa infatti non credo che la tiratura sia diciamo di massa toglieremo Benedetto che parla male di dire fare rifondazione e soprattutto io ho già in mente una compagna che stampava regolarmente quel contributo perché c'era un target di compagni e compagni per utilizzare una espressione orribile quale è target che invece lo leggeva questo per dire e così provo a dare gli elementi ma siamo rimasti e questa conversazione in 40 minuti non ci sta e quindi proviamo a svilupparla anche tema per tema quello che a me colpisce è il continuare a ragionare del partito come se fosse un'organizzazione che sta in qualche modo all'interno della società protetta dalla sua forma organizzativa cioè c'è il partito e c'è la società ci sono i dirigenti i militanti e poi c'è il resto della società e credo che questa cosa in larga parte sia sfumata o meglio quando avevamo fatto la prima iniziativa la sinistra mette tristezza parlavamo dei meccanismi per cui se entri dentro l'organizzazione diventi assolutamente autoreferenziale cioè ti fai mangiare dalla macchina era più riferito alla macchina diciamo così burocratica istituzionale il punto di partenza il film da cui parlavamo non parlavamo tanto del partito però a me era venuta in mente quella dinamica per cui da fuori se racconti i congressi le riunioni di partito ti pigliampe grullo nel senso che gli dici ho fatto sei ore di riunione non stop tre giorni di congresso dalla mattina alla sera senza mai uscire fino alle due di notte a votare gli emendamenti sono tutte pratiche sono tutte pratiche che ti fanno anche appartenere all'organizzazione con i social e la comunicazione di oggi l'interno esterno è molto sfumato quindi quello che tu scrivi sui social quello che tu condividi le discussioni ormai le fai quasi sempre nei commenti raramente le fai dentro la riunione di circolo questa distinzione diciamo tra la comunicazione verso l'esterno e l'organizzazione Elisa te dicevi appalto infatti la questione dell'appaltare merita secondo me di essere discussa di più proprio in relazione a che cos'è il partito non in senso filosofico ma in senso pratico cioè organizzativamente che cosa siamo e l'ultima cosa che voglio aggiungere per non prendere troppo tempo e rimandare poi all'approfondimento è la composizione di classe cioè quando noi diciamo quello di cui ha bisogno la classe anche lì è come se il partito fosse qualcosa che sta fuori che deve dare rappresentanza e non la classe che in qualche modo si organizza e faccio un esempio pratico sulla questione della casa io mi sono sempre chiesto quanto il mio problema di pagare l'affitto sia effettivamente sentito nel paese essendo un paese dove l'immobile di proprietà è abbastanza diffuso quindi la discussione anche all'interno del partito sulla questione della casa a me a volte è capitato di chiedermi quante compagni e compagni all'interno della discussione poi avevano effettivamente il problema di pagare l'affitto che non è banale nel momento in cui si ragiona della campagna sugli affitti perché anche lì l'identificazione di chi vive in affitto spesso non è con chi occupa la casa è col piccolo proprietario quando noi facciamo le discussioni sull'occupazione in città questo noi lo vediamo benissimo e anche lì la tua parola d'ordine sul diritto alla casa viene presa anche da chi paga l'affitto o viene presa da chi ha il problema della questione abitativa perché tu dovresti essere in grado di mettere insieme tutti e due i pezzi invece di caratterizzarti solo sull'elemento più conflittuale perché è quello che ritieni che sia più giusto ovviamente adesso penso che sia un po' difficile per voi intervenire però è il vantaggio di essere l'oste di queste conversazioni se volete posso invertire il circolo e partirei io perché mi ha dato un interessante spunto di in un momento io posso tagliarmi quindi io mi riascolto mi elimino quello che non mi piace molto orrelliana questa cosa no e te giustamente dicevi l'affitto il problema degli affitti se la battaglia se la campagna sulle affitti ce la ragioniamo e poi la mandiamo fuori insomma da parte di chi l'affitto non ce l'ha che cosa poi si può che cosa poi si può immaginare e quindi aggiungo che cosa poi si può comunicare e poi dicevi giustamente che spesso e volentieri da un lato l'organizzazione interna dei partiti è evaporata diciamo così perché tutta la burocrazia di cui parli e che comunque nel nostro nel nostro immaginario storico è la burocrazia di botteghe oscure è evaporata per l'evidente mancanza di risorse e di cose ora non so com'è la situazione del nazionale ma già una realtà relativamente relativamente protetta come la Toscana ha costantemente problemi di denaro detto brutalmente posso solo immaginare il mal di testa per il tesoriere nazionale quindi da quel punto di vista è un passato che difficilmente può ritornare ed è un passato che difficilmente può sopravvivere se è sopravvissuto in alcune sezioni e con chissà con che trasformazioni perché poi insomma la realtà da un certo punto di vista fortunatamente è molto è molto transciante spesso e volentieri cioè se certe cose le puoi fare perché c'è risorse bene se no non le fai però per tornare sull'affitto mi è venuto in mente per esempio che Firenze sicuramente è una città estremamente feudalizzata dal punto di vista degli affitti cioè nel senso moltissimi quasi tutti sicuramente hanno la casa di proprietà o giocano sul reddito della casa di proprietà da qualche parte per potersi pagare l'affitto che anche questo è un meccanismo abbastanza consolidato cioè te hai una casa in luogo A l'affitti con quella rendita ci paghi l'affitto nella zona B nell'area B insomma nella città B però è anche vero per esempio che Firenze è una città che ha una fortissima colonia di studenti fuori sede e spesso fuori sede molto fuori sede cioè io mi ricordo che quando ero quando ero studente io sui circa 60.000 66.000 ora studenti dell'Ateneo Fiorentino un buon 50% era fuori sede e di questo 50% un'ampia un'ampia percentuale era fuori sede e fuori sede cioè gente dalla Puglia dalla Sicilia dalla Lombardia insomma parecchio fuori sede non del comune sì non del comune di vicinanza sarebbe interessante anche per gioco tra virgolette per un gioco serio inventarsi una campagna degli affitti che pur portata avanti da una federazione locale come quella come quella di Firenze per cui su soggetti aventi come destinatari soggetti che non votano nell'area fiorentina ma che però votano quando poi ritornano a quando poi ritornano a casa loro sarebbe interessante inventarsi una campagna per loro cercando di intercettare proprio come diceva Dimitri un problema un problema comune anche se proprio magari non nel tuo comune ok? non so se si è capito però è una roba è una roba per ragganciarmi è una roba secondo me più diffusa di quello che si pensi cioè anche soltanto parlando del anche soltanto parlando degli affitti spesso e volentieri le nostre realtà territoriali città spazi eccetera sono attraversate da una infinitudine di persone che magari con il territorio hanno un rapporto parziale cioè ci vivono ma non ci lavorano ci lavorano ma non ci vivono bla 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 e questo è un altro grosso elemento su cui riflettere perché la comunicazione spesso appunto da parte di soggetti locali è una comunicazione incentrata o che si pensa incentrata sulla località per cui se te sei la federazione di Campi Vigenzio se te sei la sezione di Campi Vigenzio fai riferimento ai cittadini di Campi Vigenzio perché sono loro che poi ti votano in consiglio comunale però non è non può essere la fine l'ultimo fine o il solo fine di un'organizzazione complessa come può essere come un partito soprattutto in tempi in cui c'è un gran frullio di gente detto proprio brutalmente per cui magari la stessa sezione territoriale localissima in realtà poi viene attraversata da un sacco di persone infatti non a caso Facebook tra le varie opzioni per fregare i dati alla gente e poi rivenderli alle aziende che fanno marketing ha anche l'opzione fai vedere questo contenuto non alle persone che vivono in questa zona ma alle persone che passano attraverso questa zona perché questo è interessante per come secondo me umilmente come spunto di riflessione spesso e volentieri una comunicazione da un lato da un punto può essere più generale di quello che il punto stesso presuppone poi mi chiedo se facciamo il giro al contrario tocca a me allora no io penso solo queste due cose intanto ovviamente nel mio intervento non volevo minimamente minimizzare il ruolo della della militanza anzi che però prendiamo anche atto un po' di quella che è la situazione mi ricollego a quello che diceva Benedetto perché adesso in questo ultimo intervento perché effettivamente da anni esiste un po' uno scollamento tra i vari livelli che fanno sì che spesso la traduzione locale delle campagne non esista come non esiste nemmeno il fatto di sentirse ne parte di questi magari di una lotta di una campagna e via dicendo quindi probabilmente insomma è venuto a mancare io dico il senso di appartenenza in senso lato che non è il senso di appartenenza all'ideale comunista o all'ideale della sinistra radicale o all'ideale della sinistra d'alternativa chiamatela come vi pare ma è il senso di appartenenza a un collettivo che porta avanti determinate idee ricollegandomi a quello che si diceva in altri precedenti incontri non mi ricordo se nell'ultimo o nel penultimo questo così dimostra che anche li ho ascoltati entrambi ci tengo a sottolinearlo si parlava del divertirsi nel fare politica e io sono sempre stata una grande tifosa di questa teoria cioè ci si diverte si fa politica e si portano anche a casa risultati perché si mostra l'entusiasmo quello di entusiasmo che serve anche per condividere un banalissimo post su facebook se una cosa non mi interessa non mi prende la pancia io avevo la prof di filosofia del liceo che diceva che noi la filosofia non dovevamo capirla con la testa ma sentirla alla bocca dello stomaco io sono sempre stata io l'adoravo quella prof e quindi di conseguenza l'ho portato in ogni parte della mia vita se una cosa io non la sento nella bocca dello stomaco c'è poco da fare non c'è speranza che io sia presa dal dedicarci tempo dedicarci energie denaro di metterci una firma di andare a mettere la mia faccia e la mia faccia la metto anche nella condivisione su facebook quindi se c'è una cosa che ovviamente mi stimola soprattutto sui social dove l'aspetto emotivo gioca forse enormi quindi noi dobbiamo ritrovare quella connessione passatemelo sentimentale ma emotiva che è di rappresentanza e quindi sì dobbiamo trovare un nuovo modo per coinvolgere i territori per coinvolgere la militanza per coinvolgere i vari livelli e tutto questo sì bisognerà capire se la comunicazione può essere anche un qualcosa di utile e gli strumenti della comunicazione possano essere anche un elemento di utilità e non solo un insomma il pezzo finale quello che comunicatore lo chiami quando è ora di mettere in bella il volantino senza poter toccare il testo la relazione tra il modello organizzativo attuale e tutto il resto credo sia fondamentale credo che ci voglia una discussione ampia sul tipo di organizzazione e la relazione fra questo e le altre cose è verissimo che a volte abbiamo la sensazione di vivere nel partito del presente con l'idea del partito di vent'anni fa e questo è un limite diciamo gigantesco che ci portiamo avanti e che dobbiamo assolutamente superare a me sembra questo senza toccare poi nel merito le varie cose gli affitti le case ci avrei qualche cosa da dire ma ve le risparmio mi sembra che negli ultimi anni tutta la sinistra radicale non parlo di rifondazione parlo di tutta la sinistra radicale in ogni forma organizzativa ha dimostrato con i risultati che nessuno ha delle formule magiche nessuno ha delle soluzioni per quanto riguarda la relazione fra tipo di comunicazione e consenso nessuno può insegnare all'altro com'è che si fa la comunicazione con delle piccole eccezioni chiuse in determinati periodi di tempo però non c'è nessuno che ha la formula alchemica da dire guardate questo è il tipo giusto di comunicazione questo è il tipo giusto di organizzazione eccetera tutte le cose che diciamo perlomeno tutte le cose che ho detto io eccetera sono tutte ipotesi che devono essere messe a lavoro sono tutte ipotesi che noi dobbiamo verificare nella pratica e nella pratica perché questo è l'unico modo che ha un'organizzazione politica per praticare le cose se le cose che abbiamo detto noi oggi rimangono in questa bellissima discussione piacevole che abbiamo fatto rischiano di davvero essere assolutamente improduttive quindi o noi riusciamo a trovare la modalità per fare un passaggio tra queste elucubrazioni fra di noi e poi effettivamente una pratica politica e noi rimaniamo esattamente al punto di prima e quindi diciamo per questo io sono un grande sostenitore di Dimitri che con questo format sta credo sta sviluppando una discussione anche un po' fuori dai canali diciamo ordinari dell'organizzazione credo che questa è solo una cosa positiva e quindi queste cose queste iniziative secondo me si dovrebbero moltiplicare si dovrebbero allargare perché solo fra col confronto diciamo fra di noi e aprendo e allargando come ha fatto Dimitri possiamo recuperare qualche idea nuova e metterla a lavoro la cosa che diceva Elisa e chiudo sulla sull'appaltare la comunicazione io credo che non so se interpreto bene ma credo volesse dire che poi quando si tratta di mettere a frutto un prodotto e la comunicazione questo debba essere messo a frutto da qualcuno che abbia le competenze per farlo però diciamo non avendo non essendoci come io credo una separazione di fatto fra quello che comunichiamo e cosa comunichiamo la relazione fra l'organizzazione politica e chi la comunica deve essere sempre una relazione di tipo dialettico di confronte di ascolto e di ascolto continuo quindi spero che ci saranno altre occasioni per discuterne perché mi sembra appunto molto produttiva questa modalità di confronto no io tra l'altro su questo voglio fare una precisazione per me l'appalto non è vuol dire ok ti do le chiavi in mano e mi dai il prodotto però può essere anche un pezzo prima cioè nel senso io mi mancano gli strumenti per fare l'inchiesta chiedo a qualcuno una mano per interpretare come esprimere all'esterno un concetto che noi abbiamo cioè il famoso discorso che mi pare facessi proprio tu Daniele all'inizio giustizia sociale come la traduciamo nella pratica bene è più utile dire adesso sparo l'esempio giusto perché è stato l'argomento un po' che ha attraversato i nostri interventi discorso del blocco degli affitti o magari blocco dei mutui adesso sulla prima casa adesso sparo visto che tanto l'Italia appunto è un paese di piccoli proprietari o di proprietari o di quelli che vorrebbero un giorno essere proprietari di casa oppure no aspetta perché l'altro elemento sarebbe capire se questa immagine che abbiamo è vero oppure no certo io adesso sparo la do per scontata e allora dico ok fosse questo il problema è avere l'affitto o pagare il mutuo sulla prima casa o magari riuscire a riparare il tetto nella casa che tu hai di proprietà perché l'hai ereditata dai nonni adesso detta proprio pensando visto che comunque viviamo sulle spalle spesso dei nonni anche perché c'è anche questo a dire delle nuove generazioni quindi ragioniamo su tutti questi pezzi magari in questo abbiamo bisogno di appaltare un pezzo perché non riusciamo a farla noi questa inchiesta è brutto il termine appalto mi rendo conto ma in realtà è un lavorare e capire se ci sono delle professionalità che si possono andare a ad usare ecco è un po' questo il concetto buono ok vai grazie mille e va bene a presto ciao grazie a te ciao 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 era tipo l'unica parte che non stavo registrando rifacciamola rifacciamola così grazie a te